benvenuti signori e signori domani games channel di oggi aliens con le al marines io sto con la tastiera e lui con il mouse quindi ne vedete belle quando è brutto simovamente lui ci lascia lì immobili no e se ne va poi che cazzo non si è sicuramente siamo fissati bene decidiamo così che è carta con la vostra cittadina non lo so la vera e che roba vabbè siamo stati catturati dagli alieni questo lo spesso l'abbiamo capito e penso che adesso bisogna fare una cosa più logica scappare c'è bisogno di mangiare c'è un marino porca puttana dai bene ma che siamo gioco dalla tappa e comparati così sopra ci venghi un martello e scusa andiamo avanti via fui fui scappa come se non ci fosse un domani schivato torno a canne cade un altro sembra destra quindi ci fosse più verso la sinistra corridorri calditi 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 direttore volerci in seguito cosa abbastanza scompa bimbo io faccio con un marino atti sui a me che prega scusandrati c'è un secondo si sia la ore a cia e si aprino le porte la porta ora lento non si devono svegliare non si devono svegliare destra e sinistra dobbiamo seguire le luci ah ma lo vedi loro ci danno i consigli muovi lentamente cose non ce li canchiamo proprio ecco perchè ci c'erano le vacciate ma facciate dopo che dove si sono svegliati inutile mi sa che ci diventa poco ah ma è vero noi abbiamo scoperto così mettermi c'è figlia corri corri eravamo quasi arrivati ecco 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 corri corri guardate come crepono tutti guardate non sei bello vai brutta puttana vai lì ecco bravo 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 guardate il suo divertificio di qua no è destra no qui ecco poco buoni buoni diretti chiusure colore pensiero l西 a ma fa un culo ci hai provato a zoccola va a cagliare questo è un'opera d'altro non si muove come sta in posto infatti a te con l'imparagno qua ci dovrebbe stare una porta no aspetta dobbiamo salire no 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 sta lì sta lì sta lì sta lì sta lì sta lì è bravo ok io ancora non mi spiego questa cosa perchè lui c'era questo affare non lo posare per me ma pur se ti volessi picchiare soltanto da io non me appassionate bravo va bene piano andiamo lentamente una cosa che ci ha imparato noi ricordavamo sempre noi non savavamo che erano corri corri esatto salto io tu corri no ma noi dobbiamo aprire porta giù scorri ah è vero sa qualcosa pronti mannaggia figura è merta apri siamo morti si adesso guardate il trucco per saltare il livello guardate arrivare qui ci penso loro ancora ammazzarci guardare guardare guarda 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 guadile siamo lì vai corri vai il quale la salina non può sparare ai no corri 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 le scale le scale le scale le scale le scale tomba leva questa mano dalla dalla no lì c'è le cose esplode a cazzo dici ho detto esplodevano esplodevano potete esplodeva le cose esplode doveva andare lì e ma non è giro sono quello c'è un luogo di pacce c'è un po' davvero accorgiamoci secondo me qualcuno si è svegliato no un secondo non c'è dietro eh questo bimbo a chi lo do funziona ehm muo' ci svegliamo muo' ci ritroviamo non ne a porta che ci vogliono picchiare però nella camera tua eh si fui fui fuiiii merda quello non era previsto no mo' si spino tutti si si apri apri la porta o si merda anni di allenamento con slenderman si infatti l'abbiamo fottuto l'abbiamo fottuto stai zitto devo sempre ritrovare da qualche altra parte sinistra bravo non va c'è qualcosa che ho dire addosso esplode solo ma fa la fiamma una sigla qualcosa che cazzo è è un saldo è un distante cazzo apri veloce e veloce e veloce e veloce e veloce e veloce e veloce cazzo 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 cazzo